E mi viene anche da dire che forse se questa ferrovia invece di chiamarsi Fano Urbino, se fosse chiamata Pesaro Urbino, sicuramente sarebbe già decollata e sarebbe già funzionante. È un attacco al Partito Democratico quello di Lucia Tarsi, candidata a sindaco di Fano, contraria al percorso ciclabile accanto ai binari ferroviari. La scelta giusta, secondo il centrodestra, sarebbe invece il ripristino della ferrovia Valmetauro a vantaggio di cittadini e turisti. A conferma del progetto, nella sede elettorale di Piazza 20 Settembre, è stato illustrato il successo del caso Val Venosta, preso come esempio e come modello da seguire. La Fano Urbino, secondo Tarsi, rimarrebbe la sola occasione per proiettare la città e la sua vallata nel futuro, creando nuove opportunità di lavoro, destagionalizzando il turismo e incrementando la mobilità sostenibile. Il costo del ripristino, ha dichiarato Bellagamba, presidente dell'associazione Ferrovia Valmetauro, si aggira attorno agli 87 milioni di euro, ma più si aspetta e più aumenta il rischio di perdere i finanziamenti dello Stato. In realtà la volontà di non far decollare questa ferrovia è sicuramente una volontà politica, una volontà politica di chi ha capito che la ferrovia diventerebbe, sposterebbe il baricentro dalla provincia, dalla Valle del Foglia alla Valle del Metauro. Quindi il baricentro della provincia inevitabilmente diventerebbero Fano e Urbino, i due poli. All'incontro era presente anche l'ingegnere Marco Stabile, direttore della ferrovia Val Venosta, dismessa nel 1991 e riattivata nel 2005. Oggi trasporta 3 milioni di viaggiatori ogni anno ed è talmente utilizzata che è in corso la sua elettrificazione al fine di raddoppiare la potenzialità di trasporto. I treni sono troppo pieni, la gente quindi risponde positivamente alla riattivazione della linea ferroviaria e questo ci obbliga in qualche modo a pensare al sviluppo futuro della ferrovia e l'elettrificazione è l'unica possibilità oggi. E quanti abitanti conta la Vallata? La Vallata ha un bacino di utenza molto limitato, sono 40 mila abitanti e questi fanno oltre il 90% del traffico quotidiano. Poi abbiamo il periodo turistico, i turisti per l'appunto, ma rappresentano un numero limitato, diciamo globalmente meno dell'un terzo dei viaggiatori che fanno lo zoccolo duro di tutta la stagione. Io non sono il sindaco che vuole assolutamente inaugurare, io vorrò essere il sindaco che lascerà a chi verrà dietro di me il piacere di inaugurare qualcosa.